Oggi, con Topolino 3388, è uscito in edicola il topolibro dedicato alla scienza, lo spazio raccontato da Topolino. L'ho comprato e vi dico che cosa ne penso. Intanto il prezzo. Se comprato insieme a Topolino costa 10,90€, invece acquistato da solo in fumetteria costa 8,90€. Confrontiamolo con alcuni vecchi topolibri. Quello attuale, Topolino racconta lo spazio, lo spazio raccontato da Topolino è di 258 pagine per 8,90€. Ci sono 8 storie di cui una inedita. Come vedete, paragonato a fianco agli altri due che ho, è decisamente più spesso. È un bel cartonato molto elegante. Gli altri due che possiedo hanno decisamente meno pagine, rispettivamente 146 e 162, costano anche di meno. Costavano 6,90€ e 5€. Toposcienza aveva all'interno soltanto quattro storie. Ovviamente una era Paperino in Ponti di Quackenberg e quindi solo per questo dovreste averlo. Cioè già questo giustificava l'acquisto. Mentre il libro dedicato al Salone del Libro, il primo topolibro, aveva all'interno 5 storie, anche queste tutte già pubblicate. Quindi 8 storie, una inedita, il prezzo sembra che lo valga. Vediamo che cosa c'è all'interno. Ecco il sommario. La prima è la storia inedita, Paperino è una missione impossibile. Seguono tre storie con Roby Vick, che è una paperizzazione dell'astronauta italiano Roberto Vettori, una storia con Paolo Nesp, che è la paperizzazione di un altro astronauta italiano, Paolo Nespoli, e poi altre tre storie con Zio Paperone e Avventure Spaziali. Tutte le storie sono sceneggiate da Alessandro Sisti, ma i disegnatori sono diversi. Per la storia inedita, il disegnatore Stefano Zanchi, mentre quelle di Roberto Vittori e Paolo Nespoli sono disegnate da Stefano Entini, e le caccia al tesoro di Zio Paperone hanno i disegni di Francesco Lippolito. La storia inedita è una breve storia di una quindicina di pagine, in cui Paperino e Paperina finiscono in vacanza forzata, mandati da Paperoni, sulla International Space Station, e ovviamente ci sono alcune belle immagini della stazione spaziale e alcuni rimandi interessanti, soprattutto a cose che possono interessare noi italiani. Il fatto, ad esempio, che la gran parte della stazione spaziale internazionale è stata costruita in Italia, ben il 40%. Questa, come anche tutte le altre storie, sono scritte in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e in un certo senso sono un omaggio all'Agenzia Spaziale Italiana. Le altre storie. È molto interessante il fatto che ci siano presenti tutte le storie di Robi Vic, ovvero quelle in cui compare la vaporizzazione di Roberto Vettori, e che ci sia anche la storia dedicata a Paolo Nespoli. È un po' un peccato che manchi Belle Spaziali, dedicata a Samantha Cristoforetti, ma c'è da dire che una di Robi Vic, la prima, quella di Paolo Nespoli e Belle Spaziali che ho citato, sono già presenti in Astro Topi e Cosmo Papere. Quindi, mentre è giustificato il fatto che manchi quella dedicata a Samantha Cristoforetti, forse per chi possiede già l'Altro Topo, Astro Topi e Cosmo Papere, è un po' un peccato che qua siano presenti quella, la prima del ciclo dedicato a Robi Vic e quella per Paolo Nespoli. Ma, in un certo senso, il fatto che ci siano tutte le storie di Robi Vic può essere interessante. Secondo me, per essere più completa, sarebbe stato bello che ci fosse anche Belle Spaziali con Samantha Cristoforetti. Samantha Cristoforetti comunque compare in una foto nelle pagine speciali di approfondimento alla fine del volume. Le ultime tre storie sono invece delle storie molto recenti, sono tutte apparse tra ottobre dell'anno scorso e maggio di quest'anno, quindi se siete abbonati a Topolino o comprate frequentemente, queste le avete quasi sicuramente, mentre quelle dedicate a Robi Vic e Paolo Nespoli sono dell'inizio degli anni dieci, del 2010 e del 2011. Vedo adesso dal sommario che la storia, Paperino e una missione improbabile, mi sembrava molto corta, in realtà sono ben 22 pagine. Avevo detto una quindicina. I contenuti speciali sono otto pagine in cui viene raccontato come gli astronauti vivono nello spazio, ci sono alcune foto di Paolo Nespoli, Roberto Vittori, Samantha Cristoforetti, insomma tutto l'armamentario dei nostri astronauti italiani e viene raccontato un po' come si vive lo spazio. I contenuti speciali in realtà sono abbastanza pochi, però sono ben curati. Sicuramente vale l'acquisto? Beh, dipende. Il volume è sicuramente molto bello, le storie sono carine, interessanti e sicuramente con un sacco di spunti scientifici, dato che dopo tutto sono seguite dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il problema, come sempre in queste raccolte, è le avete già queste storie? Se le avete già tutte, forse solo per l'inedità non vale la pena, ma se ve ne mancano alcune sicuramente è un buon acquisto. Infine, visto che siete arrivati fino in fondo, vi raccomando di iscrivervi al mio canale Un Matematico Prestato alla Disney per essere sempre aggiornati una domenica sì e una domenica no sulla matematica dei fumetti Disney e per scoprire quando in edicola c'è qualcosa di scientifico a tema Disney che vale la pena andare a recuperare. Alla prossima!